Questo appuntamento è offerto da La Massucco TSRL è presente nel settore della vendita e di noleggio di movimenti terra, compattazione e demolizione, piattaforme aeree, gruppe elettrodi, furgoni, autocarri e sollevamenti. Disponiamo di un parco macchinario di oltre 1800 mezzi delle più prestigiose marche italiane ed esteri. Siamo concessionari della gamma del marchio Itachi. I nostri clienti vengono seguiti non soltanto al momento della visita, ma anche dopo, attraverso un efficiente servizio di assistenza vendita e ricardo. Esperienza, puntualità, precisione, formazione adeguata del personale sono le caratteristiche che da oltre 50 anni contraddistinguono la nostra azienda. Siamo presenti in Italia, Francia e Nordafrica. Massucco TSRL, a cura. Visitate il nostro sito www.massucco.com Energetica, soluzioni per la produzione e risparmio di energia per abitazioni private ed aziende. Ci occupiamo di progettare e realizzare soluzioni e impianti che permettono di ricevere dall'aria, dalla terra e dal sole il fabbisogno di energia per vivere meglio e spendere meno. Per informazioni senza impegno vi invitiamo presso la nostra sede di Bernezzo in via Sant'Anna 31A. Una gamma semplicemente affidabile. Super Tino Crosetto a Marene, la scelta vincente. Copedil, coperture, rivestimenti industriali e civili, rimozione e smaltimento a mianto, montaggio, strutture metalliche e in lamellare. Siamo a disposizione per sopralluoghi, preventivi gratuiti e colloqui informativi per fornirvi il necessario per valutazione e risoluzione problema a mianto. Copedil, via Torino 185, Sommariva Bosco. Siamo presenti alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, Area Ecotec. La gamma class 2019 la trovi da Fogliarino, via Garetta 32 a Genola, 0172 68 159, www.fogliarino.com. Mula Sano, macchine agricole, da oltre 50 anni sinonimo di garanzia ed affidabilità nel settore macchine da giardinaggio. Oltre al marchio John Deere, di cui siamo concessionari, motocoltivatori e trattori Ferrari, rasa erba, motoseghe e decespugliatori Steel, Shindaewa e Defco, macchine per la potatura di frutteto e vitigno e per la coltivazione e raccolta di ortaggi. Vieni a visitare la nostra vasta esposizione a Bra, in strada Orti 20T. Torna per la sua 38esima edizione la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, in programma dal 14 al 17 marzo prossimi. L'edizione 2019 della Kermess, che come sempre andrà in scena nell'area fieristica di Via Alba, è la prima ad essere organizzata dalla nuova fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano. La prima fiera della fondazione, in cui si esprime una volontà condivisa e unanime, di cinque anime, che rappresentano mondi diversi, ma tra loro sinergici inevitabilmente, a cominciare dal comune stesso di Savigliano, e che danno questo mandato a noi, che siamo il nuovo consiglio, per realizzare una fiera che sia sempre più una fiera specifica, una fiera che evolve, che cambia, che si trasforma, che propone un progetto sempre nuovo e sempre rinnovato, al fine di offrire realmente servizio a chi investe in questa fiera, crede in questa fiera. Un'occasione unica per la nostra città, molto importante, e noi speriamo di poter contornare questa fiera con altre iniziative, con altri eventi, con altre manifestazioni, di modo che la nostra Savigliano possa offrire a un pubblico sempre più vasto le bellezze del nostro territorio e dei nostri prodotti. Come Arproma Compartigianato continuiamo a puntare su quello che riteniamo la fiera importante in Italia del Nord, una fiera che punterà sull'innovazione, una fiera che vede Arproma direttamente coinvolta con dei convegni legati al tema della sicurezza sulle macchine agricole nei luoghi di lavoro. Insomma, un momento importante per difendere quel made in Granda, quel made in Italy, che contraddistingue i costruttori di macchine agricole, soprattutto i piemontesi, quelli di Cuneo, che da sempre sono considerati nel mondo come leader per la costruzione di macchine agricole. Come Banca Cassa di Spermio di Savigliano, naturalmente abbiamo mantenuto fede al nostro ruolo di main sponsor e vogliamo essere vicini a questo evento che noi riteniamo importantissimo, non solo per Savigliano, ma per l'intera provincia di Cuneo. Ma anche se vogliamo alzare lo sguardo su un orizzonte un po' più ampio, la sfida del cibo, della capacità di saper proporre del cibo di qualità per un mondo che sta aumentando in termini di popolazione è una sfida molto importante a cui saranno chiamati tutti i paesi del mondo. In questo la meccanizzazione agricola avrà un ruolo ovviamente fondamentale. 38 edizioni stanno a dimostrare l'arguta scelta fatta tanti anni fa di dare a quest'area così vocata per la meccanizzazione agricola l'opportunità di poter avere una grande vetrina, che un tempo era territoriale, poi diventata regionale, nazionale, oggi addirittura internazionale, perché nei giorni della fiera arriveranno la buona parte d'Europa, dei buyer, per venire a conoscere, a comprare, mi auguro, a prenotare. Io dico queste eccellenze che in questa terra generosa del modello Cuneo nascono da tantissimi anni. Questo appuntamento è stato offerto da Mulassano Macchine Agricole, da oltre 50 anni sinonimo di garanzia ed affidabilità nel settore macchine da giardinaggio. Oltre al marchio John Deere, di cui siamo concessionari, motocoltivatori e trattori Ferrari, rasaerba, motoseghe e decespugliatori Steel, Shindaewa e Defco, macchine per la potatura di frutteto e vitigno e per la coltivazione e raccolta di ortaggi. Vieni a visitare la nostra vasta esposizione a Bra, in strada Orti 20T. La gamma class 2019 la trovi da Foglia. Fogliarino, via Garetta 32 a Genola, 0172 68 159, www.fogliarino.com Coppedil, coperture, rivestimenti industriali e civili, rimozione e smaltimento amianto, montaggio, strutture metalliche e in lamellare. Siamo a disposizione per sopralluoghi, preventivi gratuiti e colloqui informativi per fornirvi il necessario per valutazione e risoluzione problema amianto. Coppedil, via Torino 185, Sommariva Bosco. Siamo presenti alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, Area Ecotec. Coppedil, via Torino 185, Sommariva Bosco. Amarene, la scelta vincente. Una gamma semplicemente affidabile. Super Tino. Drago GT High Performance Club Energetica, soluzioni per la produzione e risparmio di energia per abitazioni private ed aziende. Ci occupiamo di progettare e realizzare soluzioni e impianti che permettono di ricevere dall'aria, dalla terra e dal sole il fabbisogno di energia per vivere meglio e spendere meno. Per informazioni senza impegno vi invitiamo presso la nostra sede di Bernezzo, in via Sant'Anna 31A. La Massuco TSRL è presente nel settore della vendita e di noleggio di movimenti terra. Compattazione e demolizione, piattaforme aeree, gruppe elettrodiche, furgoni, autocarri e sollevamenti. Disponiamo di un parco macchinario di oltre 1800 mezzi delle più prestigiose marche italiane ed esteri. Siamo concessionari della gamma del marchio Itachi. I nostri clienti vengono seguiti non soltanto al momento della visita, ma anche dopo, attraverso un efficiente servizio di assistenza, vendita e ricardo. Esperienza, puntualità, precisione, formazione adeguata del personale sono le caratteristiche che da oltre 50 anni contraddistinguono la nostra azienda. Siamo presenti in Italia, Francia e Nobdà. Massuco TSRL, a culo.